parte 2 siccome è durato pochissimo però se hai visto qualcosa lo rifacciamo col suo esatto prendiamo la heating bag vediamo quanto è la clerici che ci spiega cosa fare ecco veloce perché ci spiega di far veloce la zuppiamo con l'acqua ci mettiamo questo sopra lo chiudiamo e adesso sentiamo insieme perché esplode fra poco vediamo qua no non è vero intanto vi faccio vedere intanto che la reazione di my heart arriva come direbbe barsternini non è vero non c'è nessuna reazione comunque questo è il prodotto finale sì lo so è un abominio però dovremmo mangiarcelo perché c'è solo questo se avessi passato un uragano è lasciato non potete vedere adesso fra poco inizia a a suppipettare dal buco avete presente c'è un dio ci racconti qualcosa della sua vita della sua abilità culinaria e come sai ordinare la patiniera no stavo scherzando not yet adesso esplode in diretta prendo la faccia letteralmente allora e cosa posso dire sono cosa ne pensa della prova del fuoco sembra che stia esplodendo io sentiamo tutto è tutto vero è tutto in diretta signori sta per esplodere sto coso ci sembra uno sciacquone non ho idea infatti dopo devo devo andare a vedere di cosa è composto questo sacchetto voglio capire cos'è che fa reazione con l'acqua in cinque minuti e arriva a far bollire l'acqua devo capire è un cadavere perché poi il sacchetto diventa duro con una pietra secondo me c'è della soda caustica mischiata e non lo so le unghie di c'è un'anima oscura l'anima oscura l'anima va bene sabaku no maiku e va bene no pu e sabaku no gao mao mi come si chiama no gao mao mao mi e vabbè e quindi sabaku no xiaomi e vabbè e quindi sabaku no xiaomi non si vede ancora ma perché in teoria e beh ancora fai dai eh perché adesso adesso è adesso qua si sta scaldando ora diamo tempo diamo tempo la procedura richiede pazienza e sono cinque minuti e sangue aranci dunque sono cinque aranci olio di palma go go proprio perché se non cito si chiama olio di palma olio di palma di comito comunque questi mi sono costati dai cinesi troppo 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 ma erano cinesi originali o cinesi cinesati? dato che uno di questi costa 4 euro e 50 qui dove siamo noi a milano milano dove però milano wyoming? eh no milano brutta piazza più o meno dove siamo noi qui a milano tunisi? basta c'è una bomba in casa e non è questo ok adesso sgargarozzo si sta scaldando ora qua adesso bolle ma lei è un fisico nucleare no purtroppo no no non è lei è un fisico io come certo è un engineering sono e per questo che faccio? engineering e certo questi i 4 euro e 50 buttati sono rubati alla tua istruzione in questa roba no l'ho preso solo perché le ne davano due a 4 e 50 se non mai ma non lo dica non lo dica le ne davano due perché era parte dell'istruzione della nasa per arrivare su marte senti senti sembra una lavatrice ed è diventato buon lento è diventato che non mette a fuoco ok però non sgargarozza è non sgargarozza diventa un delfino una balena ma si anche il delfino oh guarda che siamo ai coltivati a tappi in quel delfino anche noi siamo ai coltivati a tappi sull'ora mi aveva venuto in mente una puntata di simpson in cui c'era lenni che aveva il buco in fronte a cosa di una monetina si che tirava via la monetina e uscivano i frutti di sani si poi rimetteva la monetina e tornava a posto se non è un episodio di scienza non abbiamo guardato il tempo quando finisce di fare il buuuu no il tuo è già finito da un pezzo vabbè no 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 il tempo ce l'abbiamo il tempo della registrazione è vero quanto siamo? siamo a 5 minuti adesso è minchia è una sgargarozzata e infatti c'è qualcosa che non va ho messo troppa acqua ho troppo fuoco nooo un botto ne ho messo rispetto a quella di prima ah si? che avevo meno paura che esplodesse avevo meno paura quindi via a lei con l'acqua capodanno perché si sente che è caldo però non sgargarozzata perché qui non è bollente ancora sotto sminchia sotto beh lasciamolo un pelo di più magari eh si il mio ha sgargarozzato abbastanza mamma mia che aspettate che metto fuoco questo è il vero sabaccum oppure questo è il vero sabaccum quando non strucca per la telecamera è esattamente così poi fai gli urletti da femmina sabaccum sabaccum non fai questi sono mezzi professionali aaaaah è guineville il 5 è questo è figato di guineville aaaaaah figato di guineville aaaaaah eh vabbè eh vabbè eh eh sto sgargargarozzando sgargarozza sgargarozza la dove? eh si la vedo in controllo eh vabbè ma non era così prima era una negozione islandese aspetta aspetta eh ma secondo me perché c'è un enorme aspetta faccia light boom eh è diventata bulgaria tutta dunque ecco che sgargarozza piano piano però dai 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 ce la puoi fare? ce la fa ce la fa senti come bollo adesso sgargarozza bene non ti preoccupare aspetta stai coprendo il fungo eh vedi che sgargarozza sembra una candela un compleanno tanto auguri per la tua morte capitolo terzo no basta se fanno soltanto soltanto anche un highlight nuovo su quella roba vado a hollywood e faccio sfruttare e rapisco l'attrice ecco guarda 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 lo sgargarazzone sembra una sigaretta una sigaretta è un posacine è un posacine è un posacine per me alla fine abbiamo comprato un posacine era dai cinesi che sono dai cinesi schifo schifo mamma mia si ma tu non la puoi mangiare più sta roba come no sta sgargarazzando adesso da un'ora si ma da un'ora sta bollendo è giusto perché ci avevano messo da patto eh ci avevano messo troppo concentrato di soglia vabbè signori è così che finisce e finisce allora mi lasciamo qui 5 minuti a vedere a vedere uno sgargaro ma non è questo il giorno eh quest'oggi tocca a te mangiare la stampa per questa bella merda mamma mia facciamo una rivedere no allora che si apre così noi oggi combattiamo e mangiamo stai attento perché se le bombe non sono sempre arrivare shhh shhh è qua la bomba vai shhh buon appetito mamma mia addios no 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 no